Che fai? Angela, lasci sempre le conversazioni a metà? Vuoi che mi scusi per essere nata? Scusami! Ok, Jessica, voglio essere chiara. Non saremo amiche né su Facebook né nella vita, va bene? E su Instagram? Ce l'hai Instagram? Ma mi ascolti quando ti parlo? In parole povere, così mi capisci. Adesso noi due andiamo via. Scopriamo che problema c'è con l'appartamento. Vediamo se possiamo venderlo, ci dividiamo il profitto e ognuno andrà per la sua strada come sempre. Ok. Non ti chiedo di diventare amiche. Siamo sorelle e basta. No, tu non sei mia sorella. Non sei nulla per me. Hai capito? Per me tu non esisti. Te lo devo scrivere su Facebook? Nemmeno tu esisti per me. St***a. Perfetto. Nessuna delle due esiste. Benissimo. E questo? È vero o me lo stai immaginando? È vero. Grazie a tutti.